Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna ci sono code a tratti tra Fabbro e Val di Chiana, tra Incisa Reggello e Firenze Sud e tra il bivio per la 11 e la variante di Valico. Per materiali dispersi rallentamenti tra Firenze Impruneta e Firenze Scandici. Sulla variante di Valico in direzione Bologna rallentamenti tra Aglio e Firenzuola. Sulla statale 67 Toscor Magnola ha chiuso per lavori il tratto tra l'incrocio Pontassieve statale 69 e l'incrocio per la Rufina in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!